Musica Anciumangroassan, volcente a Tizimbarerde. Alle Zoloava az'Luzerna, disarizzo dal silvo da manifestazione, augilec von Bruno von Mozze, pittar Aesce Valciugana, Trentino, pannondar pittar Proloco vô Luzerno. Alloav vodavonkin alle disteigela vô Luzerna. Alloav vodaisnet voralle, laivor di Sportivan, un vodagea sorga di peishten plez vô Luzerno vô Luzernar choachpona. Berda bilge machont, tiuatasse smach bissanillait vodar Proloco vôrslont Luzernar. Da c'hoast Luzernar zimbar loav treil. Unbrom sissa loav, zavuas, bo da gert um inum vô Luzern ganz in natur. Ma partichtum rift vô Luzern, gert um inum in lond, pascharente unta d'artecz, unguyen au ober un machen alle disteigela vô Luzerno quı über mera importanti vô Luzerno. La rift vô Lunges, laket vô Per, laket vô Imaginarjõ und laket vô Storge. Pâșarente ir tě pešste plét zvô Le Magatonzoyene vô Luzerno un zem Luzerno mehra nevêrt vô Nump! Un vô Beitomò. Questo trail è lungo 27 chilometri e ha un po' 840 metri totali. L'Userna Zimbar Loft Trail si inserisce come una novità dei circuiti dei trail. Perché è un trail in quota, con dislivelli non particolarmente impegnativi, con dei paesaggi bellissimi da vedere che sicuramente involeranno i trailer a venire sull'Alpe Cimbra a fare questa manifestazione. Iscriversi basta che questo atleta ci colleghi al nostro sito www.gsvalsugana.it, c'è la pagina dedicata al trail e trova tutte le indicazioni per le iscrizioni alla manifestazione. La manifestazione sarà sicuramente promossa dalla PT Alpe Cimbra, dalle associazioni di Luzerna e sulla stampa specializzata tipo Correre, Spirito Trail. L'Userna Zimbar Loft Trail è sicuramente contento. Siamo arrivati al 12 settembre. Nel 13 maggio i studiati con la facoltà di Brixen, con la Freie Università di Poi, sono iniziati a Luzerno per la più di una minorità. I studiati che hanno già fatto un'attreffa online di Pieter Valentina di Castellet, sono anche iniziati con l'ex direttore del Luzerno Kulturoinstituto Luzerno Diana Maria Trenti Kaufmann, e che hanno fatto un'attreffa di un'attreffa di documentazione di Luzerno di Luzerno per lui. Abbiamo visto l'attreffa del Luzerno Kulturoinstituto Luzerno, e abbiamo visto alcuni progetti che hanno fatto anche iniziati da Zimbar Zun. I studiati hanno scoperto dal professor Armene Gildo Bidese e dal professor Andrea Vittali, professore che è bello in un'attreffa di Brixen-Uno in la Freie Università di Poi. I giorni sono molto interessati al progetto del Luzerno Kulturoinstituto Luzerno per la comunicazione, al corso di Solirna e Schreibers per Bia, e a tutti i progetti che hanno fatto un'attreffa di Kinder. Sì, sono venuto con un gruppo di studenti dell'Università di Bolzano, della Facoltà di Scienze dell'Educazione di Bressanone, e sono studenti di un corso di linguistica applicata. Ogni anno, oltre alla lingua ladina, si occupano anche di una lingua di minoranza. L'anno scorso, per esempio, si sono occupati del sardo. Quest'anno hanno scelto, gli organizzatori del corso, il cimbro. E quindi ho trascorso 45 ore di lezione durante il secondo semestre di quest'anno accademico con loro. E devo dire che si sono dimostrati molto interessati, tanto che abbiamo deciso, per l'ultima lezione del semestre, di venire in visita a Luzerno. E devo dire che è stata veramente una bella esperienza, prima di tutto perché abbiamo conosciuto, hanno conosciuto Luzerno e la realtà cimbra. E poi anche perché era la prima volta che loro stessi si incontravano, in quanto a causa della pandemia si erano visti loro stessi, oltre a me, solo in video. Ne abbiamo approfittato poi del fatto che è proprio l'ultimo giorno di lavoro di Anna Maria per ripassare con lei questi 18 anni che lei ha dedicato alla salvaguardia e alla promozione della minoranza cimbra in diversi ruoli che ha svolto presidente, direttore e altri ruoli ancora. E quindi, diciamo, è stato anche un ottimo modo per, da parte degli studenti, per conoscere una persona che ha dedicato intensi anni della vita alla causa cimbra e dall'altra parte penso anche per Anna Maria per fare un po', per rivisitare un po' i progetti, le cose fatte, le cose che si possono ancora fare. E mi è sembrato che la voglia di fare ci sia e anche per gli studenti è un'opportunità, forse, per trascorrere alcune settimane e anche per fare un tirocinio qui all'istituto. Ci piacerebbe aprire con l'Università di Bolzano, in questo caso, la possibilità di fare un tirocinio all'istituto Cimbro. Sicuramente credo che bisogna far uscire il cimbro al di fuori del territorio e quindi cominciare a far entrare in contatto parlanti di cimbro anche con parlanti nativi tedeschi, non solo in Trentino o in Alto Adige, ma anche in Germania. Sarebbe infatti interessante forse vedere delle colonie di scambio interculturale tra minoranze e altri paesini in Germania, perché naturalmente ci sono molti parlanti anche di dialetto tedesco che potrebbero quasi riidentificarsi anche in una minoranza tedesca in Italia. Un'altra parte che ci sono state informazioni che hanno fatto, nel Cultura dell'Istituto Luzerno, ha un'altra parte che si può comprare e che si può fare un'altra parte. Il gruppo è un'altra parte che si può fare in Italia fino a 6 ore. Per il gruppo di San Mara, ma ora in Cultura dell'Istituto Luzerno. In questa settimana ci si può fare un'altra parte che si può fare un'altra parte di oggi per il giorno 2021. Da ora in Luzerno, in quanto riguarda il più trentino trasporti, si tratta di un risultato che si tratta di Poullmi di Luzerno Calnecci. Poullmi si tratta di Luzerno Calnecci. In Poullmi si tratta di Luzerno a 26 anni, e si tratta di Poullmi fino a 12 settembre. In Luzerno Calnecci si tratta di Luzerno di 18,5 morgas, di 9,5 morgas, e di 6,5 morgas. In Poullmi si tratta di Luzerno a 26,5 morgas, di 9,5 morgas, e di 5,5 morgas. In Poullmi i dissi di Luzerno, in Cultura dell'Istituto Luzerno, che si tratta di Luzerno a 26,5 morgas, a 2,5 morgas, di 9,5 morgas, a 5,5 morgas. A 4,5 morgas, che si tratta di Luzerno a 26,5 morgas. In questo schreiberset dovete andare al Kultúrinstitut o schicke un'e-mail su fiorenzo.castellan.luzern.it Il Kultúrinstitut ha fatto un po' che non si tratta di un'arbrezza di lavoro in Sommar Kindergarten. Il Sommar Kindergarten è stato fatto nel settembre agosto. Il Pielo ha dato che ad un po' di risponso, in un pochino, il risultato di Amozさ non sa, ma non si tratta di un paio di risponso. Amorile a Sommar Kindergarten è stato un po' di risponso che non vi sono a scopo di più che il Pielo ha fatto un po' di risponso che non vanno a farlo e non a particolare nel Kultúrinstitut, ma a tutti i famigli che hanno un po' di risponso stesso. per l'ambiente. Per questo lavoro, vi ringrazio il curriculum vitae su www.snecklechill.luzern.it Parliamo di una speciale di Stefano e di Galen che parlano di Malar e di Luzerno del Reo Martin Pedrazza. Il speciale ha detto che non è solo questo e questo quadro, ma questo è ora. In speciale vogliamo venire a Youtube, a un canale Eppas Merach, un'at TML, canale 6, via Rezboa in diese urna. Un vodisa boch, vodart Simba Rierde Isals, ha sachat gärna Zebaras di boch. Vodakint, al Shuman Groas, von Matteo Boncastellet.